Siamo ancora allo stand Sony, l'ultimo dispositivo che vogliamo mostrarvi è questo Z5 Premium, 5,5 pollici da diagonale dello schermo, risoluzione 4K, una scelta inusuale, il primo smartphone a montare questo pannello, una scelta dettata dall'esigenza di mostrare al meglio i video girati con il nuovo sensore. Lo stesso sensore ne montano anche i fratelli minori, quello da 23 megapixel, realizzato insieme a divisione alfa che si occupa dei sensori per le macchine fotografiche. Particolarità di questo dispositivo, vedete questa parte posteriore completamente a specchio, veramente prona a raccogliere le ditate, una scelta estetica discutibile, c'è anche in colorazione nera, forse è meglio optare per quella se si decide di acquistarlo. Batteria interna da 3430 mAh, dovrebbe garantire comunque due giorni di autonomia grazie alla tecnologia Stamina, vedremo se questa promessa sarà mantenuta. Per il resto stesso processore dei fratelli minori, Snapdragon 810, 3 GB RAM, GPU Adreno 430, 32 GB di storage espandibili. Anche in questo caso vedete la porta micro USB impermeabile, niente più sportellino, qui c'è invece il vano per inserire SIM e microSD, pulsante di accensione, pulsante per la macchina fotografica, e bilanciere audio. Non c'è molto da dire ancora su questo dispositivo, vedremo come si comporterà, Wi-Fi dual band, LTE categoria 6, interessante, ma vedremo il prezzo e vedremo soprattutto l'autonomia, visto questo schermo davvero ad altissima risoluzione. Per il momento è tutto, ci rivediamo su telefonino.net.